Il filone delle classic continua ad andare a gonfie vele sul mercato italiano e Aurea Enfield cavalca questa tendenza portando a EICMA 2019 diverse novità a partire da un'interessante monocilindrica confezionata sulla base del modello classic. La Bullet Trials è ispirata al successo che l'originale aveva raccolto nel campionato enduro e regolarità inglese della metà degli anni 60 e ripropone quindi la tipica colorazione verde oliva del telaio. È anche disponibile con telaio rosso che è una motorizzazione disponibile in India su 350 ma ovviamente per l'Europa saranno entrambe le versioni su 500 cm2 di cilindrata. Aurea Enfield porta però al salone di Milano anche aggiornamenti nella gamma della tutto terreno Himalayan con l'obiettivo di aumentare le vendite nel 2020. Himalayan è stato un prodotto essenziale, spartano è la parola italiana che cercavo di ricordarmi. È stato finora disponibile in tre colorazioni bianco, nero o un mimetico monocrom. Finalmente sono disponibili due colori veri quindi nero rosso e bianco e blu. Il successo dell'Himalayan è stato abbastanza stabile, sia nel primo che secondo anno di introduzione abbiamo venduto intorno alle 500 unità. L'ambizione è di portare il risultato verso le 700 unità all'anno solo per l'Italia. Aurea Enfield mostra infine a Milano anche alcune proposte che stuzzicano i clienti attenti non solo allo stile ma anche alle prestazioni, sfruttando la partnership con un marchio molto blasonato. Fa parte del gruppo Harris Performance che è un marchio storico dell'agonismo inglese motociclistico. Abbiamo lavorato con Harris per lo sviluppo dei telai Himalayan e 650 Interceptor. Su base 650 mostriamo tre cose. Step 1 e step 2 del kit di potenziamento della GT 650, quindi kit aspirazione, iniezione scarico e carene integrale e una variante flat tracker che non è omologata su strada ma è solo per competizione. Telaio e forcellone individuale Harris e monoscocca serbatoio e codino in fibra di carbonio.